si pedala siamo in località pedogna quanti giorni pedale? non c'è niente da fare bella la pedogna siamo in giusta la lana è sempre bene tutta saluta si veramente bella oh ciao ora è una strada 45 viene piano vive la bici sembra invece la botogna è bellissima ma sembra una piccola specie è bella un'osi di pace e di tranquillità ai piedi della montagna verso i luci no ecco una tirote per una buca bravi dunque le strade sono efficienti le strade si non ci piove e comunque si è attraversata quasi no e beh si è attraversata la botogna si comincia da strada 43 strade 44 qua ci sono che so già di sotto e sopra e qui c'è come un piccolo parco santuario diciamo ma già adesso mi fermo e vi faccio vedere lì lì